Un saluto e ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebineteo. Nella giornata di giovedì tornerà a splendere il sole sulla Liguria, avremo estesi rasserenamenti sul territorio e un clima relativamente mite per il periodo punte massime di 15-16 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più in dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna provincia partendo da Imperia, tempo stabile ed assolato, rinforzerà una ventilazione a largo dai quadranti meridionali e motondoso in conseguente aumento, temperature massime attorno ai 14-15 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, anche qui tanto sole e clima mite nelle ore centrali della giornata, punte massime sul tratto costiero attorno ai 16-17 gradi. Anche su Genova il sole sarà prevalente, ventilazione debolo o assente, temperature massime anche qui attorno ai 14-15 gradi. Sul Tigulio, cieli sereni tersi e temperature diurne un po' più contenute, non oltre i 13-14 gradi, ventilazione debolo o assente. Uno sguardo sullo spezzino, anche qui tempo stabile, asciutto e soleggiato. Le temperature massime, anche esse un pochino più contenute, su codesto territorio saranno prossime ai 12-13 gradi. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica alta garantirà ancora un contesto stabile, asciutto sulla Liguria e cieli sereni limpidi sul territorio. Un clima mite nelle ore pomeridiane con punte massime di 15-17 gradi, un po' ovunque. Una ventilazione debole sul tratto costiero ma ancora vivace a largo. Dettaglio ulteriore in merito sulla peritere bimeteo. Dettaglio ulteriore in merito alla peritere bimeteo. Dettaglio ulteriore in merito alla peritere bimeteo.